Se ti chiedo quale animale fa l'uovo mi risponderai probabilmente la gallina. Ecco da uno studio a qualunque persona sia stata fatta questa domanda la risposta era la medesima, la gallina. Eppure ci sono più di 700 specie di animali che fanno le uova. E sai perché tutti rispondono la gallina? Perché per quanto sembri una barzelletta la gallina dopo aver deposto l'uovo fa coccodè. La gallina dopo aver realizzato il suo prodotto lo comunica. E signori la gallina ha inventato il marketing. Ma cosa possiamo imparare dalla gallina? Ad esempio possiamo imparare che possiamo avere il prodotto migliore del mondo o l'uovo più bello ma se non lo comunichiamo non lo potrà mai sapere nessuno. I social fanno la differenza da quando sono nati in tutto quello che è comunicazione. Ecco perché la risposta che do sempre a chi mi chiede se i social funzionano davvero o possono dare un aiuto nella loro impresa la risposta è sempre assolutamente sì. Perché comunicare quello che fai fa differenza nel produrlo solamente. E questo è marketing.